sembra di sì sembra regge la situazione vediamo se regge la situazione provo a vedere su twitch se la situazione regge ho provato a ridurre no perché ok fammi ridurre il volume ho ridotto già ok ecco ho provato a fare una cosa un po diversa dal solito nel senso ridurre la la risoluzione ma aumentare framerate prontamente la 60 e vediamo se regge molto semplicemente vediamo se regge ora in tutto questo facciamo un po di paio di condivisioni social giusto per farle ok tipo qua tipo qua ok copia giusto un paio di condivisioni così condividi su e poi l'ultima ecco qua se me lo fa porca miseria aspetta faccio subito e faccio condividi su ok ok siamo quasi pronti incolla ok e direi direi che andiamo qua levo la sonneria perché se non riesco a ritornare ogni peso spinto e al è ok però stavo per fare danno non ma no ok scusate alla put ok 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 ci sono è tutto ancora a posto e la parte è ancora salva e la pu e la ca e corca di ok va bene allora ok va bene signori facciamo che ci siamo facciamo che andiamo facciamo che ci siamo facciamo che andiamo facciamo che Trails of Milgard avanti ho questo giochino carino che non so dalle pubblicità dalle cose dai trailer mi ispirava in qualche maniera mi ispirava tra l'altro costa anche poco costa 20 euro una versione digitale costa 20 euro quindi comunque potrebbe anche essere un investimento carino che possa oggettivamente valerne la pena quindi signori proviamo semplicemente proviamo ok è venuto stagione 1 la saga del lupo ma vediamo vediamo com'è allora ok modalità di gioco ah soltanto tutorial non ho personalizzare ah ok devo personalizzare il person ah ok personaggio allora personalizziamo il personaggio ok cominciamo chini scusate allora personalizziamo il personaggio allora tonalità della pelle a parte il fatto che perché non pisi allora ruota ah con questo ruoto però no allora scusa eh non riesco a capire tutorial no annulla person porca personalizza oh perfetto mi sarà tipo bloccato perché non mi va oh soltanto questo non mi fa fare vabbè non non ci sto capendo molto allora tutorial no perché non posso personalizzare il mio personaggio non mi fa non me lo fa oh finalmente allora vediamo un po' com'è ok come ok allora facciamo tipo tipo così allora i visi aspetti fammelo ruotare fammelo ruotare allora ok adesso così allora acconciature però posso scegliere se è maschio o femmina io non riesco a capire per forza per allora ritratti no famigli posso scegliere se è maschio o femmina io non riesco a capire perché non posso scegliere se è maschio o femmina allora ok no sono conciature non posso farlo non posso farlo perché non posso farlo colore dei capelli grigio sto rosso sto arancione no questi sono una cosa arancione allora allora ma io non allora ritratto ritratti che ritratto che poi che facciamo ritratto ritratto buh non so che cosa to questo sighi ok ritratto per il vichingo e va bene ok però poi nel famino ne ho frasi emot con le capelli e conciature tonalità della pelle non capisco perché ripesco non capisco perché non posso farlo maschio o femmina però vabbè facciamo che no 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 annulla impostazioni vabbè italiano vibrazione mostri di online vabbè posso anche mostrare mostrare eh generale aspe porca miseria allora comunicazione va bene sono incantati me lo pe però che vabbè non non riesco a capire personalizzazione allora protezione cosmetiche scudi ok ah cosmetiche allora qua ok torso ah ma io da questo punto ce li metto ce li metto ce li metto va bene ok poi armi cosmetiche ci sono le armi cosmetiche to col martello armi ci sono armi cosmetiche vabbè ok comunque facciamo vabbè andiamo al tutorial allora andiamo di tutorial andiamo di tutorial c'è qualcosa che non va nella scrittura però eh c'è eh che 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 beneficiavano di loro poter c'è qualche problema con la scrittura eh con la scrittura con i sottotitoli allora a lungo con i nebulisti di Ygrasil il velo di regno assottitava i nemici di Asgard mentre il regno veniva consumato la residenza mettendo in moto la fine di ogni cosa c'c' eh i raggiosi eroi di Valhalla fanno ritorno alle loro case per l'ultima resistenza tutti insieme non lo non lo capisco eh questa è una cosa scusate un attimo che mi metto ah scusate che qua c'ho il porto l'azio il ventilatore scusate un attimo devo chiudere di qua devo fare di là ora io continuo a non capire perché non potevo scegliere se farlo maschio o femmina io già questa cosa io allora c'è qualcosa che non va eh c'è qualcosa che non però vabbè allora eh le allora guarda Mani le le Inejar è qui però sembra che il tuo eseggiamento non sia giunto fin qua giù di scendere dal Valhalla ai suoi convenienti ma sono certo che un guerriero immortale come te ha visto di peggio non che volte siamo qui per guidarti nella tua nuova saga se solo sapessi cosa hanno in serbo per te gli dei esatto siamo stati invitati dalla nostra idea quindi sei in buone in buone zampe basta chiaro dobbiamo muoverci giusto giusto iniziamo rimpiazzando il tuo piaggiamento perduto ma prima ti serviamo gli ingredienti inizia a raccogliere dei rami e della selce qui vicino tornano a noi presto va bene torna ai gatti ogni volta è completo un obiettivo la posizione viene mostrata sulla mappa ok ok allora che devo che devo raccogliere devo raccogliere selce raccogliere raccogliere sei rami e due selci ok otto raccolto non mi dia che anche questo è un survival però allora allora eeeh caffè 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 va bene grazie anzi si si va bene va bene allora anzi no gioia no hai che a dividerlo vabbè dividerlo ok va bene dai va bene allora soleira che poi soleira sembra il nome di un gruppo di quelli sembra un nome di gruppo di gruppo quelli tipo che fanno delle balle di gruppo isolera gruppo anni 70 80 comunque allora nella tua vita mortale eri un contadino per caso non mi aspettavo che questo ehi ne forse si prova a esplorare e raccogliere basta così mani ora facciamo lì da una vecchia amica bravissima a creare attrezzi ok seguici vabbè io vi seguo dai vi seguo seguiamo i gatti un fenere i gatti scusa un attimo ok ah sono siete qua parliamo dai eccolo la possente stagnina la possente stagnina faccio a parlare non moro ok vabbè ok va bene ehi la stagnina allora piccone di felce crea va bene uno nell'inventario ordina no ah ok ho fatto poi parliamo con questi non è molto ma anche un piccone di felce poter raccogli minerali da piccone di selce poter raccogli minerali da deposito in isola come pietra e ferro primo passo è carriarmi armato ok quindi quindi con questa ok va bene e proviamolo ah allora ok prossimo ok con la jane e quale equipaggiamento hai ok ok va bene allora io non lo vedo sto equipaggiamento che devo fare ok avvicini ok va bene estrai ok estraggo cosa devo eh io estraggo estraggo ok ok estraggo estraggo estragiamo ferro può servire può servire ferro questo c'estragge qua qualche cosa no estraggo qui ferro ferro ok e ci sono pure anime va bene ok allora ok 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 io continuo a non capire perché sono un attimo allora ho fatto questo sembra quasi inutile otto abbiamo forgiare un'arma va bene allora facciamo ok questa è la fase veramente tutorial forgiamo le armi facciamo le robe va bene allora però io gli ripeto allora qua allora signor cofo devo parlare con te si chiama steinar ok è anche un bravo fabbro ok fai il ferro steinar spada del villaggio crea dai uno nell'inventario va bene oh e c'ho la spada perfetto poi ora hai qualcosa con cui difenderti ecco grazie oh gioia ecco ecco in chat non capisco perché ti sei messo in chat però ecco ti gioia e auguri buon compleanno te li faccio anche qua auguri buon compleanno allora ma il mio chiedo sempre se la live se va tutto bene se lagga se c'ha qualche problema cioè se a livello audio video va tutto bene chiedo se va tutto bene se ci sono problemi di roba insomma di di buffering se si blocca se carica eccetera chiedo sempre se va tutto bene che se non va bene insomma devo un attimo devo un attimo risettare un po' di cose comunque mi hanno mi hanno sono più fino a questa no comunque dovrei vabbè ok questo questo c'ho questo c'ho allora e qui viaggia ospita un seme di igrasil l'albero del mondo e in realtà deve continuare che gli stiano sicuro questo seme rimane in salute se ne si invita non è inutile con le anime la forza vitale ok le anime si trovano un po' ovunque il creatore nelle piante addirittura le mirate ok ok va bene vabbè quindi c'è a dare le anime c'è a dare le anime allora tornare quando è finito allora che devo donar anime ok gli ho dato ok aspetta ma ah no è bello bello pienotto adesso ok a posto ora questo seme è importante della tua nuova vita ok guarda il cielo è quasi ora ogni notte è meglio un creatore regno oscurità bravo il potere dei semi se il seme cade non ci sarà niente a marciare contro i dei stanno arrivando ok ok allora qua avremo adesso tutorial di di combattere coppisci i nemici per accumulare mana usa il mana per scatare le magie contenute dalla tua nuova allora quindi io devo dove sono allora eccoli questi non ci ho capito niente va bene vai ok ok poi ok questo è via poi ok la tv è sobravi su tanto quindi praticamente è una sorta di tower defense cioè devo ok anche se a quanto pare balanzare un se tu avresti costruito ok ma non giochi con l'inverno senza fine che si avvicina queste sono le più pure ok fai attenzione alle lune di sangue perché sotto il cielo rosso emergo il loro leader ok cosa ho giotun ha scoperto posizione di questo seme uno giotun stamaggiano in questa direzione ok è qualcosa di potente impedire ok voglio dire assentire nostra chiamata dobbiamo insieme questo giotun usiamo santuario village ok va bene ok ma la cosa hai visto l'idea è collegata da twitch sul cellulare su questa live e come hai visto se andava a scatti o andava bene tutto bene tutto a posto ok va bene l'importante è questo allora ti la giotun eh ok grazie gioia però poi eh ok alle 8 quindi scendo 7 e mezza quindi obbligiamo verso le 7 ok eh ah beh ok va bene ok va bene allora qua che ho giocato questi 20 metri ci sono di ogni taglia forma ma vogliono tutti i strati studi del semi di gracil cosa ci fa qui gherri gher come si chiama gherriodr gherriodr questo gigante ghiaccio mi fa sempre ok sembra già ferito qualche altro lì l'aveva già attaccato ok quanti avversi è la tua arma ok cosa la cosa dovrebbe aiutarti parecchio oh allora riquaggiamento leggendario ok allora giotun però l1 r1 allora ok ok oh le uh uh aspetta che eh no aspetta che qua no ok aspetta che devo colpire questo gigantone il eh ok porca miseria vai vai oh oh ma 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 stanno andando con l2 ah oh di martellone andiamo di martellone andiamo oh ok il giotun è stato respinto allora prendiamo ste robe uovo d'oro pozione di salute eh ma è qua c'è il drop ok e abbiamo preso il drop adesso torniamo da ah questi sono legno bacche questo non c'è capito oh parliamo con questi vediamo un po' che cosa comunque non sembra troppo complicato ecco magari piano piano ci si può capire ecco ben fatto ha rispito ma sta parolaccia cosi ah eh nel suo legno nativo non lo vedremo per un po' ok presto che giungeranno altri quindi faremo meglio a continuare a prepararti per quel momento sconfiggiano ok oh Ailer FC welcome to the live to this live welcome Ailer è vientemente la marita cosa questa parolaccia ma abbiamo portato il culo lontano da qui c'è questo è a casa è la marita ma non è la rivolta verso di me quindi welcome to the slime Ailer how are you so so fine allora sconfiggiano tutti ha fatto serie di river le guadagnano benissimo e divina forse Odin avrà raggiunto il conto dopo tutto te l'ho detto questo è degno degli dei addirittura good you I'm fine thanks I'm fine I'm trying this this game tribes of Midgard and now I I try this let's see what what happened there allora qua queste raccolgo ste cose tanto vabbè allora qua ci pare che abbiamo finito prendi il beef roast per tornare nel valalla con noi nel valalla con noi festeggiare coi tuoi amici einerjar einerjar e guadagnare preziosi e corni d'oro non preoccuparti tornerai qua giù abbastanza presto la prendi cura anche degli altri semi va bene sarà meglio che tu lo faccia perché ti terremo d'occhio tranquilli calmi siamo calmi tutti tranquilli einerjar allora quindi ah dobbiamo andare di qua torniamo nel valalla oh torniamo nel valalla per reclamare la tua ricompensa c'è in questo mondo alle spalle si è a posto oh e diciamo il tutorial il tutorial l'abbiamo fatto oh possiamo fare una partita in solitaria o matchmaking io direi per ora in solitaria giusto per capire allora io però ecco personalizza adesso posso cambiare posso un attimo tra le viti e coltore emote ritratti non non riesco a capire mi ha fatto donna così non 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 lo capisco allora qua ci vabbè sfide altre cose vabbè modalità faga allora le altre modalità ah sopravvivenza ok ecco vabbè allora iniziamo con palestra l'italia nuova partita nome del mondo 688 quale c'è vabbè il numero telefono va bene ok ok allora vi lancio eh però aspetta io devo capire un attimo armi non ho niente non ho proprio niente proprio zero di zero attrezzo mancante e allora aspetta aspetta che io non posso prendere la pugni allora ok costruisci no mentale forse allora cosa devo fare qua ah qua c'è la cosa ok cura resto cura non anime non ne ho la correzione raccogliendo risorse io non ne ho risorse non ho niente proprio nulla tu allora no rami mi servono rami e selce vabbè rami e selce mi servono rami e selce cerchiamo rami e selce allora eh nove acero sì però quattro c'ho ma e e vabbè ok e poi 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 belliccia cose anime belliccia ok e sarò troppo debole però selce e anime ma rami non ne sto raccogliendo qua selce e rametti non trovo rami no 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 questo è nemico no 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 una villaggio ma ci sono tutte cose demiche ma che che si aspetta allora con la camera ok allora anime e però non niente indietro no non 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 posso però da dovrebbe esserci dovrei trovare a qualche parte questo che fa il cacciatore no mi serve allora questa la stagnina io direi piccone di accetta di selce crea e piccone di selce ingredienti insufficienti va bene e niente poi ok ok scusate un attimo posto varano united i don't know wait a minute hai hai i don't know come i don't know come hello ok, prima pausa ragazzi, un van un van un United buona scelta per un United io solo posso dire questo è una buona scelta per un United assolutamente allora buona scelta per un United bene poi, allora qua va bene, ti raccogli guarda che aveva una macchina come posso dire? e con la pezza e le quadri e forse è sotto la la borsa è tutto ok? allora è tutto ok Gioia? perchè? perchè? ok, allora farò raccogliere robe qua non so che cosa devo fare molto 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 buona buona bene un buon prezzo veramente buon prezzo buon prezzo assolutamente Stranger Maybe it's a period Maybe it's a period Allora Allora siamo qua Ho preso cosa? Ho trovato abbastanza robe Allora Crea piccone di selce Oh e creiamo Pure piccone di selce così Queste cose però allora mi servirebbero anche Le armi Però per quelle armi sa che servono Allora qua dono un po' di anime così Tanto per E L'armaiolo L'armaiolo Allora Ferro no Devo avere spalle dell'ersil Allora Mi serve il ferro Ok Andiamo a cercare il ferro Andiamo a cercare il ferro Dove vado? Di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Va bene Gioia Eh? Ok Va bene Gioia Ieri Apparevano presso il tuo villaggio No ma io devo fare Ferro Ferro Ok Ferro Ma porca miseria Calendula No io Ferro Ferro Ok Quanto ne ho? Grazie Gioia E poi E poi 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 dove Porca Allora No 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 E poi rifletta il gioco Già non ti sto facendo niente E poi E poi di qua Allora Ferro 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 che mi serve in arma Allora Crea Ce l'ho abbastanza Oh spara dell'ersil Ok Ok E già è una cosa Eh E almeno Almeno C'ho una spada Già Già una roba Ecco Già una roba Una spada Difendi il tuo villaggio Fino all'alba Che vuol dire? Che vuol dire Difendi il tuo villaggio Fino all'alba Che deve Che cosa Deve arrivare? Trinare i chiudi di cosa Ah Chi è un gioco E poi Ok Oh Ah No Ok Vai Aspetta però Devo andare giù Devo andare giù Che ci sono altre cose Oh Oh Eh Vai 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 Ok Cioè è che è tutto ok? Ma Ok Ma se lo riesco Sto andando a pugni Perché sto andando a pugni Oh Si è pulito un altro giorno Ok Intanto dono anime E non capisco perché Stai da qua Armi L3 Ah Perché l'avevo tolta per sbaglio Ok Qua anime Ok Noi c'è qualcuno qua che aiuta Ok Allora Allora Cosa facciamo? Cosa facciamo? Allora Servono risorse Servono risorse per vari Motivi Servono risorse Allora Vediamo cosa Scusate un attimo Scusate un attimo Scusate un attimo Grazie a tutti. 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 No. No. Ok. 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 Scusate. Allora. Allora. Siamo qua. Io devo... Allora, io ho appena iniziato questo gioco, onestamente, quindi devo un attimo capire un po' tutta la situazione. Qua c'è della sel, qua c'è della sel, ci raccogliamo. Ci sono altri villaggi, altre cose, però io non so se sono... Uno giotun! È entrato nel villaggio. Aspetta. È quello lo giotun. Minchia. È quello lo giotun. Ah, porca di... Oh, porca di... Oh, porca di quella, vedete? Allora. Oh. Oh, minchia però. No, questo mi sta massacrando. Mi sta massacrando. Allora. Allora. Aspetta a fare il giro. Devo fare il giro. Che cos'è? Sto giotun. Allora. Calma. Allora. Dona animine. Non posso. No. Cura. Ok. Mi cura un pochetto. Cura un pochetto. Sì. Esatto. artificiale. F1. It's not fair. I don't... I don't see the... I don't... I don't see the... The last... Races... For F1. I don't know how... How it's going... In reality. The game? It's a... The... I'm not very good at F1, I tried but, ah, the game, ok, never seen this game, hope you enjoy yourself, my guy, I'll have a look, ok, ok, I'm fine, I hope you enjoy this live, enjoy this streaming, this live, the game, the game I try, the game I try but, oh, ahia, Ah, the game I try, no, excuse me, signorina, non puoi essere bravo, eh, lo so, non può solo, aspetto, non sono bravo, eh, vabbè, ok, qualcuno mi tira su, qualcuno mi tira su, nessuno mi tira su, son da solo, povero e pazzo, nessuno, Sono da su, eh vabbè. Nessuno mi tira su. Ok. Ok. Please. Niente. Vabbè. Niente. Ok. Ah beh. Sono morto. Mi vanno a riprendere la rigenerazione. Mi devo riprendere cose al villaggio. Ok. Ok. Eh. The game. I'm not. I'm not a great player. Difendi il villaggio fino all'alba. Ah. Aspetta che qua ci sono. Stanno attaccando il villaggio. Stanno attaccando il villaggio. Hai capito? Stanno attaccando il villaggio. Stanno attaccando. Aspetta mi devo riprendere le cose. Mi devo riprendere le cose perché stanno attaccando. Eh. C'ho le cose. C'ho le cose. Queste me le prendo. Ok. Stanno attaccando il villaggio. Stanno attaccando il villaggio. Tieni premuto? No. Ok. Eh. Sì. No. L'umanità no però il villaggio. Il villaggio che stanno. Ok. Va per Finally. C'è bisogno. Ci ha bisogno. Ci ha bisogno. Ci ha bisogno. Chab. 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 Okay. Ok Allora Ok Porca Ok Ok Bene, aspetta che Che quanti sono Ok, questo è andato Aspetta Stainare il fabbro Hanno ammazzato il fabbro Aspetta Ma hanno ammazzato il fabbro Aspetta Ma, ma Pensavo fosse una cosa un po' più calma Onestamente Allora Oh, vabbè, basta Porca Ok, questo andò via Porca miseria Ok Oh, vabbè Il tv è sovrappato un altro giorno Sì, però mi serve Stainare Ah, Stainare è tornato Ok Stainare è tornato Benissimo Stainare è tornato Però, c'è Non è una cosa C'è Non è facile Sto giochino qua C'è Sempre continuazione Difendo Un viraggio a difendere Una cosa da fare Bello Bella 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 Tosta Si o c'è Ok Va bene Ok Allora Poi cosa Cosa facciamo Cosa facciamo Allora Mi servono Intanto A combattere In mutande Non conviene Quindi mi sembra Servono materiali Aspetta Vediamo Vediamo se la corazza Allora Qua tu All'armaiola Però lo scudo Allora Scudo Zero nell'inventario Quanto meno 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 Allora Aspetta Qua c'è ancora anime C'è il bordello Allora Ok Allora Questo è lo scudo Va bene Ok Il cervo è disceso all'albero del mondo Cosa è disceso L'albero del mondo Ok Aspetta Allora Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ritornerò prima possibile alla live. Non so se stasera o domani. Questo intanto abbiamo fatto un inizio. Vediamo quello che riusciamo a fare. Magari riproverò meglio domani. C'è purtroppo una situazione di emergenza che devo un attimo vedere e chiarire. Quindi, signori, per oggi chiudiamo qui. Scusate, verrà magari domani. Stasera mi prenderò difficile. Magari proverò domani sera. Riproponiamo questo gioco. Vedremo. E questo. Mado termicemente. Solo tutti quanti voi. E alla prossima.